Vieni, c'è un'occasione veramente speciale per Narlo Fee che viene dalla Bretagna io faccio ogni tanto la testa così con la razza breta quindi stasera ci avremo l'occasione giornalisticamente chiedono dove l'ho preso a quel punto parli con i tuoi plastici la punta nord-ovest della Francia quando cominciavo a ballare le prime volte già sentivo il nome di Bernardo Fee del repertorio Bretone e quindi per me è un'occasione speciale questa che sia venuto dopo qui a suonare l'amicizia che è amico di Lorenzo per via delle voci che anche volte ad essere un bravo organettista è anche un ottimo costruttore di organetti si, produce i suoi organetti anche qui la mafia di Castelfidato che è proprio lì che ci vedono, ci guardano col pinoco, col camacchiano è questo e quindi ha suonato i giorni scorsi a Genova, a Budrio e stasera invece di andare al mare ha deciso di quella compagna hanno deciso di venire qua a suonare e ballare molto grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.